è passata la mezzanotte tra il giorno 14 e 15 febbraio del 2013 questo video ho intenzione di portarlo domani mattina alla prefettura dove ci sarà l'incontro con il prefetto e con il dottor vitaliano esposito già procuratore generale della corte di cassazione ed attualmente garante nominato dal governo per il controllo dell'aia quindi perché sia verificata la effecuzione delle prescrizioni dell'aia vedete quello che c'è in che eccezionale questa è una nube assurda una mega nuvola una mega nuvola che si eleva nel cielo di taranto spostata dal vento vedete fin dove arriva guardate una nuvola immensa che si sposta per chilometri verso la città abbiamo infatti vento di tramontana che spinge questi fumi verso taranto queste immagini le consegnerò queste immagini le consegnerò al garante dottor vitaliano esposito perché prende visione ed è molto importante che lui le veda probabilmente le mostrerò domani mattina nell'incontro che ci farà in prefettura verso le ore 9 50 guardate verso le ore 9 50 guardate